Un colpo di fucile ha scosso la vita apparentemente tranquilla della famiglia Fina a Mesagne. Antonio Fine e Concetta Milone, 75 e 73 anni, sono una coppia di anziani residenti in una villetta con giardino curato in piazza Capri, al Civico 4, nella zona Manfredonia, in Contrada Torretta. Qui abitano da soli, perché i figli, entrambi avvocati, risiedono a Firenze. Per fortuna la famiglia ha alcuni familiari con i quali rimangono in contatto. Ed è grazie a una loro cugina che si è scoperto il terribile assassino. Preoccupata per non aver sentito, né visto, per tutto il giorno la signora Milone, la donna è andata a trovarla. Dinanzi ai suoi occhi, una scena di quelle che nessuno vorrebbe mai ritrovarsi a guardare. Sangue nella stanza da letto, il corpo di Concetta Milone è immobile vicino al letto e suo marito, Antonio Fina, seduto lì, accanto a lei, a vegliarne il corpo. L'allarme dato dalla donna alla Polizia di Stato, che dopo aver constatato l'accaduto, avvisato il medico legale, il dottor Antonio Carusi, e il PM, il dottor Antonio Costantini, ha fatto luce anche sull'ora in cui è stato commesso l'uxoricidio. Fina ha sparato alla moglie Concetta intorno alle 9 del mattino, quando nel vicinato i residenti della zona avevano già lasciato le loro abitazioni per recarsi al lavoro. La donna probabilmente era intenta a sistemare la camera da letto, quando il marito le ha sparato alle spalle un colpo secco di fucile, che l'ha colpita dritta alla schiena, portandola lentamente alla morte. Sul posto, dagli agenti della scientifica della Polizia di Brindisi e dai carabinieri, Fina è stato ritrovato sotto shock in preda a frasi farneticanti, così come quelle che ha scritto su un biglietto ritrovato in casa. È tutto contaminato, era posseduta dal demonio. Probabilmente l'uomo, affetto da alcune turbe psichiche, era affetto anche da manie di persecuzione, perché convinto che il cibo che si trovava in casa fosse avvelenato, così convinto d'avvertire anche gli agenti. E poi quel biglietto sulla moglie, posseduta dal demonio, fa pensare al motivo del suo gesto, un movente che con quel verbo all'imperfetto lascia spazio anche all'ipotesi di un suicidio balenato nella mente dell'assassino, ma non compiuto. Il corpo della donna, alla presenza anche del commissario di Polizia di Mesanni, la dottoressa Sabrina Manzone, è stato trasferito presso l'obvitorio del cimitero di Brindisi a disposizione della magistratura. Antonio Fina, ex dipendente amministrativo dell'ASL, era conosciuto per la sua passione per la caccia, cui si regava con i suoi numerosi fucili, regolarmente registrati, ma anche per le sue turbe psichiche. L'uomo è stato ascoltato solo sommariamente, per non essere sottoposto ad un altro shock. Con tutta probabilità, il suo interrogatorio avverrà alla presenza di uno psicologo. Un altro omicidio consumato a Mesanni tra le quattro mura domestiche, dove ancora una volta la vittima è una donna. L'uxoricidio della signora Concetta Milone è il secondo che avviene a Mesanni, dopo quello del 13 maggio 2010, quando a morire per mano del marito, Angelo Delia, fu Maria Antonietta Calò. Un paio di colpi sparati mentre la donna riposava sul divano. E anche in quel caso, l'uomo non ha avuto il coraggio di affrontare vis-à-vis la sua vittima. Mentre la polizia effettuava i rilievi del caso nella villa a Piazza Capri, l'uomo era seduto, avvolto da una coperta, nel giardino della sua casa, in cui un generoso alberello di rose bianche apriva quei boccioli che la signora Concetta non potrà mai più vedere. Grazie.